si concentri per effettuare la sua prova ci hanno cambiato anche probabilmente l'ordine degli ostacoli quindi adesso andiamo da ora a parte per capire qual è l'ordine dei vari esercizi da effettuare infatti in questo momento la gara di aurora gira intorno alla prima e la parola a terra la parola a terra è molto molto corretta, molto elegante, ora c'è il passale anche per lei con i vostri anteriori buon esercizio, questo di aurora, molto veloce un pochino larga sul primo barile ma siamo già al secondo questo secondo fatto in maniera molto buona anche il terzo, molto veloce, mantiene la velocità molto stretta vicino al barile ora c'è la campana con il becco molto veloce qui, sia solo il suono della campana che sul becco quadrato che poi precede la strettoia e lo spostamento è usato sul punto ora si distende, si distende per iniziare il pole bending in fondo bella girata per lei, molto stretta al cittadino, bel cambio di galoppo bella andata per lei dal pole bending si ritorna, adesso girata ottima in fondo al pole bending bell' esercizio per lei questo, molto molto positivo ora si va alla chiusura del cancello che presumo sarà l'ultimo degli esercizi previsti per questo percorso di aurora bel percorso per lei fino a questo momento ora si distende, ottimo ottimo il suo tempo 1.24.52 1.24.52 per lei un ottimo tempo, un percorso se non un bidonale un percorso netto, quindi ottima veramente buona la prova di aurora sul suo perro, questa volta ha fatto un percorso veramente ottimo quindi sarà dura, sarà dura sfaltarla da dalla prima posizione ma ora il pole dal tiglio di Roberta lei proverà per prima grazie a tutti grazie a tutti